Gli orizzonti della scienza, innovazione al femminile. È il titolo del convegno organizzato dal Soroptimist di Belluno Feltre e dalle scuole in rete, tenutosi questa mattina al Teatro Giovanni XXIII e rivolto ai ragazzi di vari istituti scolastici bellunesi. Lo scopo? Incoraggiare gli studenti, in particolare le ragazze, a scegliere una carriera scientifica una volta terminata la scuola superiore. Perché i ragazzi sono già abituati a essere indirizzati verso questo campo, mentre per le ragazze c'è la necessità di superare alcuni stereotipi antichi culturali e anche far aiutarle a sviluppare le loro possibilità e a superare quella sensazione di non farcela, di non essere adeguate in questi campi. A parlare, tre donne che hanno intrapreso con successo professioni di stampo scientifico, chi in ambito medico, chi in quello ingegneristico. Ambienti questi solitamente popolati da uomini. Un'occasione quindi per superare alcuni preconcetti radicati nel mondo del lavoro. Io ho iniziato nel campo delle moto da competizione alcuni anni fa e adesso mi occupo di analisi dei dati della telemetria durante il weekend di gara e di un sviluppo e proposte per le modifiche nel campo delle strategie elettroniche. Vedo che nelle mie esperienze all'estero, io ho collaborazioni con diversi paesi europei e anche con gli Stati Uniti, quindi il rapporto è molto diverso, è molto più basato sulle competenze che non sul genere, mentre in Italia ancora il fatto di essere una donna viene visto in maniera un po' più difficile. Io trovo che le donne abbiano una marcia in più, nel senso che hanno un'empatia generalmente particolarmente spiccata e una tendenza al prendersi cura. Ormai la scienza non è più un'esperienza individuale, è un'esperienza collettiva e la direzione che sta prendendo l'Europa sempre di più, ma anche il mondo, è quella di avere una scienza a servizio della società. E quindi dico che da questo punto di vista le ragazze possono avere una marcia in più, visto che hanno la tendenza a guardarsi attorno e non pensare solo alla propria carriera.